L'avvocato Luigi Rossi, presidente del Comitato del Castagnaro, era anche l'avvocato del Comune per il processo Polverino che però adesso ha lasciato l'incarico. Perché? Una serie di motivi. Il più importante è quello che riguarda la partecipazione del Comune di Quarto. Quando assunzi l'incarico chiesi al sindaco Gianrusso di partecipare attivamente, di rappresentare quella parte buona della città di Quarto che voleva dire no alla malavita organizzata anche attraverso questa Costituzione. Il sindaco effettivamente seguì questa mia linea e presenziò a tutte le udienze. Successivamente, con la sua uscita di scena, il nuovo commissario ha inteso non offrire questa sua partecipazione diretta e ha lasciato la Costituzione civile del Comune di Quarto come un appendice formale. Io quindi rispetto la decisione del Comune, ma non la condivido perché credo che le persone oneste e per bene vogliano dei fatti concludenti e non soltanto delle scartoffie. Lei ha chiesto al commissario straordinario del Comune di Quarto come mai non presenta a queste udienze? Beh, io ho chiesto più volte una presenza per dare un segno tangibile perché tutte le volte che si sono celebrate delle udienze si scopriva quanto il Comune di Quarto fosse coinvolto nella gestione del clan Polverino ed era importante che un rappresentante del Comune ne prendesse atto di volta in volta. Non ho ricevuto un riscontro da parte del commissario, non mi sono stati spiegati i motivi per cui è venuta meno l'assistenza. Rispetto questa decisione, sicuramente il commissario sa quello che fa, ma so anche io quello che devo fare, cioè non continuare ad assumere un incarico a titolo gratuito, ne sono fiero di questo, soltanto per una formalità. era importante dare la presenza di un Comune, di un legale, di qualcuno che potesse dire come era nostro intento, noi ci siamo e non vi permettiamo di distruggere questo territorio, mi dispiace che così non sia stato.